Salve amici del Blow Show, oggi parliamo del Novaks del momento, Novak Djokovic. Per chi si fosse perso questa storia facciamo un breve riassunto. Il campione serbo, che è il numero uno della classifica ETP, è atterrato in Australia per partecipare agli Australian Open. Per molto tempo si è speculato che Djokovic, che ha scelto di non vaccinarsi, potesse non partecipare al torneo. Poi a dicembre si è iscritto e ha mandato le pratiche richiedendo un'eccezione che è prevista al regolamento del torneo. Questa eccezione è stata concessa, Djokovic si è imbarcato per l'Australia ma alla dogana è stato fermato. Il visto non è stato ritenuto valido dalla gente, gli hanno tolto i suoi effetti personali e lo hanno rinchiuso in isolamento in attesa di espatriarlo. E quest'occasione non è parsa vera a tanti commentatori del web e a tanti giornalisti, da Andrea Scanzi a Lorenzo Tosa a scendere, che si sono scatenati a flagellare questo peccatore, è ad esaltare il primo ministro australiano che è quest'uomo con le palle che non guarda in faccia a nessuno, uno che fa rispettare la legge, insomma l'idolo contro questi odiosi novax. E la narrazione più o meno era la seguente, che Djokovic, essendo che è il numero uno del tennis e anche un arrogante novax, pretendeva di entrare in Australia e fare i suoi porci comodi, però lì ha trovato un incorruttibile difensore della legge che ha messo un freno alla sua saccenza. Questa ricostruzione un po' sempliciotta della realtà e il fatto che tutti si scatenassero contro uno, a me ha fatto scattare in automatico il sospetto che forse la storia non fosse così univoca come si voleva far credere. E partiamo da un dato oggettivo, Djokovic non è uno qualsiasi, ma è un atleta di elite per cui ha a disposizione tutto un entourage di medici, di avvocati, di assistenti di ogni ordine e grado, c'è gente che gli organizza la vita, per cui non è lui che per richiedere il visto va sul sito dell'ambasciata australiana e si mette a compilare i moduli. E un giornalista o sedicente tale dovrebbe sapere che c'è un team di esperti che ha redatto la domanda di partecipazione e presentato tutta la documentazione richiesta. Questa documentazione è arrivata all'ente preposto, il quale, prima che Djokovic si imbarcasse, ha rilasciato la seguente dichiarazione. Djokovic applicò per una scelta di medici, che si è rilasciato following a rigorous review process involving two separate independent panels of medical experts. One of those was the independent medical exemption review panel appointed by the Victorian Department of Health. They assessed all applications to see if they met the Australian Technical Advisory Group on Immunization Guidelines. Defending champion Djokovic will play for an incredible 10th Australian Open trophy and the men's record 21st major single title and will be the favorite in a draw which showcases 49 of the world's top 50. Quindi tradotto per chi non conoscesse l'inglese, l'application di Djokovic è stata verificata da due commissioni indipendenti e nominate dal governo dello stato di Victoria. Questa commissione è formata da medici che sono esperti in immunologia, malattie infettive, medicina generale e applicano i criteri della Australian Technical Advisory Group on Immunization che sono dei criteri estremamente stringenti. E quando tutti i commentatori festeggiavano per la deportazione di Djokovic, io magari attirandomi diverse critiche e alcuni sfottò, ho previsto che ci fossero le basi per un ricorso e anche la possibilità di vincerlo e l'ho motivato sia con il comunicato di qui sopra e anche le mie approfondite conoscenze del common law che sono culminate con una laurea ad Harvard che ho conseguito grazie alla visione di 134 puntate della serie Suits. La mia tesi era che il giudice avrebbe dato ragione a Djokovic se l'accusa non avesse potuto provare che la documentazione presentata all'ufficiale in Dogana fosse falsa o contraffatta. E siccome io non ce lo vedo un Djokovic a girare con dei documenti contraffatti, la sentenza che ha annullato l'annullamento del visto non mi ha sorpreso. Fra le altre cose ho trovato anche la trascrizione integrale del colloquio tra Djokovic e l'agente della Dogana, che potete trovare nel link in descrizione, che conferma la mia tesi. E per abbondare vi metto anche il link all'affidavit completo di 41 pagine che è la testimonianza che Djokovic ha rilasciato al tribunale con tutti i documenti annessi e che è stato ritenuto valido dal giudice. E se leggete tutta la documentazione tutto corrisponde ed è assolutamente plausibile. E come si dice in gergo carta canta ed è veramente deludente che i giornalisti di qui sopra non abbiano avuto nemmeno la decenza di leggere e spiegare questi documenti ai propri lettori. E questo dà anche la misura della loro imparzialità e della loro competenza. E naturalmente questi difensori della verità e della pubblica morale, di fronte a una sentenza del giudice che ha disposto il rilascio di Djokovic, nonostante le pressioni politiche del governo, non è che dicono op scusate ci siamo sbagliati, ma no, raddoppiano e partono con la tiritera che Djokovic è un pessimo esempio di uomo e pur di non ammettere di aver torto, da un interrogatorio che è durato otto ore, dalla mezzanotte alle otto del mattino. Estragono una frase dove Djokovic si sarebbe contraddetto e quindi essendo che si è contraddetto è sicuramente un imbroglione. E alle otto ore di interrogatorio aggiungete anche 25 ore di volo, 14 ore di jet lag per dire io la mattina quando mi sveglio se non ho preso almeno due caffè e dormito sette ore non sono nemmeno in grado di intendere di volere. E naturalmente il pubblico aizzato da questi influencer, questi opinion maker, si è scagliato in massa contro Djokovic. Come si permette? Io ho fatto tre dosi e questo impunito va a giocare a tennis. Ora a parte che tu anche se fai 300 dosi non sei cosa nemmeno di tenere la racchetta a Djokovic, qui c'è un problema che secondo me è il vero problema di tutta questa situazione legata alla pandemia. E come avevo previsto qualche mese fa nel mio testamento, metto il link qua qua, la creazione di queste tribù Provax e Novax, questa guerra costante e logorante, ci mette gli uni contro gli altri. E se vedete i commenti, la gente fa dei collegamenti astrusi tra Djokovic con i morti dei nostri ospedali, al fatto che noi abbiamo fatto tre dosi e siamo pure disposti a fare la quarta e tra poco chiuderemo di nuovo le scuole e chissà che cosa cos'altro. E lui invece non si vuole piegare, non vuole darci la sua solidarietà vaccinandosi e dovrebbe anche chiedere perdono per la sua sceleratezza. Ora queste persone non vengono nemmeno sfiorate dall'idea che lui e i suoi colleghi giocheranno un torneo a 15.000 chilometri da qui, che è in una bolla super controllata, per cui a noi, proprio dal punto di vista della pandemia, non sposto una virgola. E questi atteggiamenti, oltre ad essere un chiaro e ulteriore segno di psicosi collettiva, mi ricordano il famoso esperimento delle banane con le scimmie. Per chi non lo conoscesse, questo esperimento insegna o spiega come nascono i tabù o certi comportamenti collettivi irrazionali o inspiegabili, o come nascono le fobie o l'isteria di massa. Questo esperimento, che fu condotto secondo la leggenda da un tale dottor Goran Stephenson, fu svolto nel seguente modo. Il ricercatore mette cinque scimmie in una gabbia. In questa gabbia c'è un casco di banane che è appeso ad una corda e quando la prima scimmia va a prendere le banane, il ricercatore spruzza tutte le scimmie con acqua gelata per qualche minuto. E qualche tempo dopo, quando una seconda scimmia cerca di andare a prendere le banane, il ricercatore spruzza ancora una volta tutte le scimmie con quest'acqua gelata. Ma quando una terza scimmia cerca di andare a prendere le banane, le altre quattro la attaccano per impedirle di salire su quella scala, perché temono, cioè hanno paura della punizione, ossia della doccia gelata. A questo punto il ricercatore sostituisce una delle scimmie con una nuova scimmia che non faceva parte dell'esperimento originale e quindi non è mai stata spruzzata con l'acqua gelata. E non appena questa scimmia tocca la scala per andare a prendere le banane, le altre quattro la attaccano per impedirle di farlo. E così la nuova scimmia impara a non provare a raggiungere le banane perché se lo fa verrà attaccata. Il ricercatore sostituisce poi un'altra scimmia e anche questa, quando va a prendere le banane, le altre quattro la attaccano, inclusa la nuova scimmia che non era mai stata spruzzata con l'acqua gelata. Il ricercatore così continua a sostituire tutte le scimmie una alla volta, fino a quando tutte e cinque le scimmie originali saranno state rimosse dalla gabbia. E ogni volta che il nuovo arrivato va a prendere le banane, le altre la attaccano, anche quando non hanno mai ricevuto la punizione per aver provato a raggiungere le banane. E così le nuove scimmie, che non sono mai state spruzzate con acqua gelata, imparano a non inseguire la tentazione delle banane e si scagliano con violenza e senza alcun motivo contro chi vuole raggiungere la banana. Quindi se vi incazzate per Djokovic e sentite il bisogno di scaricare la vostra aggressione su di lui, ricordatevi delle scimmie e delle banane. Questo studio è stato elaborato ulteriormente e i suoi principi vengono sfruttati nella psicoterapia nell'ambito dei disturbi di ansia e delle fobie, dove lo psicoterapeuta sfrutta questo principio e procede a ritroso per aiutare il paziente a ricostruire la storia e capire qual è la causa delle nostre psicosi e perché crediamo che se una cosa è sempre stata così deve continuare ad essere così. E nel caso della società questo ruolo dovrebbero averlo i media, i giornalisti, gli storici, gli intellettuali, però io qui la vedo brutta perché troppe cose mi ricordano i romanzi di Orwell e le distopie dei film di fantascienza. O per tornare all'esempio di prima, siamo pieni di persone che spruzzano acqua gelata per stimolare l'aggressività. Chissà che forse prima o poi ci sarà un bambino nella folla che avrà il coraggio di gridare che il re è nudo e ricominceremo a ragionare. Per oggi è tutto e alla prossima e se vi va lasciate un like e condividete questo video sulla pagina social degli spruzzatori di acqua che preferite. Ciao!